Allora, ciao a tutti ragazzi, appunto io sono Alessandro Pecora, studio Ingegneria Informatica qui a Torino, sono un coach di FutureMaker, qualcuno forse già mi conosce. E niente, oggi per questa pillola spieghiamo appunto le basi del fotoritoc attraverso questo software, questo programma di editing di immagini che dovreste aver già scaricato, si chiama Krita. Allora, io adesso passo alla presentazione dello schermo, così tutti vedete cosa faccio anche io, e provate a seguirmi mentre vi mostro un po' quali sono le funzionalità, come si usa questo programma, e poi vediamo di riuscire a fare anche un piccolo progettino di fotoritocco. Allora, dovreste avere già, dovreste già vedere lo schermo, che è questo qui, questo qui è il programma che andiamo a usare, quindi lo andiamo ad aprire, aspettiamo un attimo che si apra. Perché non posso vedere? Non lo so, non va. Ok, allora qui abbiamo il programma all'avvio, e subito vediamo che ci sono, nella pagina iniziale troviamo due pulsanti sotto la scritta inizia, la sto indicando col mouse, uno nuovo file e l'altro apri file. Qual è la differenza? Vabbè, è abbastanza scontata, ovviamente, se clicco su un nuovo file, si aprirà una nuova pagina, un nuovo foglio bianco, su cui possiamo andare a disegnare. Allora, nel momento in cui clicco su un nuovo file, si apre questa finestra, in cui praticamente ci fa selezionare la dimensione del nostro foglio. Quindi in questo caso la dimensione è in pixel, i pixel sono i quadratini dello schermo, per chi non lo sapesse, che possono essere di diversi colori e poi messi tutti insieme vanno a costruire l'immagine in qualsiasi schermo, anche nel telefono, nella televisione, nel pc. E quindi lasciamo semplicemente, se vogliamo creare un nuovo foglio, possiamo decidere la dimensione del foglio, e in questo caso le lasciamo per come sono, quindi larghezza 1600 e altezza 1200. E facciamo crea. Vediamo subito che si viene a creare un nuovo foglio bianco, in cui noi possiamo andare a disegnare, attraverso gli strumenti che ora vi mostrerò, in cui noi possiamo andare a disegnare qualsiasi cosa. Innanzitutto vi faccio un'introduzione su come sono impostate l'interfaccia grafica del programma, perché noi vediamo, allora, qui in alto troviamo la barra di navigazione, quindi leggete file, modifica, vista, ci sono tantissime opzioni che non abbiamo il tempo di spiegare, però una molto importante è sicuramente quella di file. Se clicchiamo con file si apre questo menu, che si dice, in generale si chiamano menu a tendina, questi che scendono, e andiamo a ritrovare di nuovo quei due pulsanti nuovo e apri, proprio come era la schermata iniziale. Quindi di nuovo, se clicchiamo su nuovo, vedete che si apre di nuovo la finestra dove possiamo andare a selezionare la dimensione del foglio, scusate per Edoardo Tucci, il programma si chiama Crita, dove possiamo andare a selezionare la dimensione del foglio ed eventualmente crearne un altro. Oltre a questo, oltre al nuovo, abbiamo appunto apri. Apri ci permette di andare ad aprire un'immagine che noi avevamo già salvata nel nostro computer e quindi andare a modificare quello, che è proprio quello che noi vogliamo fare, perché noi vogliamo andare a fare un po' di fotoritocco su qualche immagine. Quindi per fare il fotoritocco su un'immagine, ovviamente dobbiamo già avere un'immagine. Allora, adesso seguitemi. La prima cosa che andiamo a fare è andare a prendere un'immagine, appunto. Andremo quindi a modificare il colore degli occhi e se ci arriviamo anche delle labbra, di un viso. Dove lo troviamo questa foto del viso? Allora, ci basta andare su Google, apriamo un browser, comunque internet, andiamo su Google e basta che digitiamo immagini viso, clicchiamo sulla tab immagini che spunta qui e abbiamo a disposizione un sacco di immagini del volto. Ovviamente, se voi avete lì una foto della vostra faccia, potete utilizzare quella. Io in questo caso la sto scaricando anche per farvi vedere come si scarica un'immagine da Google. Però è molto più bello se la foto è della vostra faccia, insomma. Allora, a me piace questa qui, ne scegliete una a vostro piacimento, preferibilmente in cui si vedono bene gli occhi e la bocca, cliccate, poi andate sull'immagine con la freccia, tasto destro e fate salva immagine con nome. Una volta che fate salva immagine con nome, si apre questa finestra, questa finestra che si chiama Explorer, serve a decidere dove andare a salvare l'immagine che stiamo scaricando. Quindi potete vedere qui a sinistra che abbiamo una sezione dove ci dice dove vogliamo salvarla. Noi la salviamo sul desktop per facilità. Quindi clicco sul desktop, gli do un nome, qui vedete scritto che c'è nome file, io la chiamo viso donna e fate salva. Parte il download qui in basso a sinistra, appena avrà finito, ci basta andare sul desktop e vi ritrovate la vostra immagine con il nome che gli avete dato. Lo vedete qui, viso donna. Ok? Una volta che abbiamo l'immagine, adesso possiamo ritornare su Krita e andare a caricare questa immagine per ritoccarla, proprio come vi dicevo. Quindi andiamo su file, facciamo in questo caso non nuovo perché noi non vogliamo un foglio bianco, ma vogliamo appunto andare a modificare l'immagine che abbiamo appena scaricato. Quindi gli diciamo apri, vedete che si riapre di nuovo l'Explorer, quello che vi ho detto che si chiama Explorer, che ci dice dove devo andare a prendere l'immagine. Noi l'avevamo salvata nel desktop, quindi clicchiamo di nuovo su desktop. A questo punto ci ritroveremo l'immagine che interessa a noi, che avevo chiamato e si chiama viso donna. La selezioniamo e clicchiamo su apri. Ecco che si è aperta la nostra immagine e abbiamo caricato appunto l'immagine sul programma. Scusate un attimo. Ok. Abbiamo caricato l'immagine sul programma. A questo punto vi faccio subito vedere quelle che sono le sezioni di cui vi parlavo, perché abbiamo Crita, che è questo programma, ci dà a disposizione diversi strumenti. Vi ho fatto vedere il file, la zona file. Passiamo subito agli strumenti, che è in questa sezione a sinistra. Abbiamo lo strumento Seleziona, che serve appunto a selezionare, ma lo utilizzeremo poco. Quindi passiamo avanti. Abbiamo uno strumento molto utile, è lo strumento Testo. Se voi cliccate sul Testo, poi andate sull'immagine e disegnate, tenendo premuto il tasto sinistro e muovendo il mouse, si apre questo rettangolo. A questo punto, nel momento in cui rilasciate il tasto sinistro, appena voi rilasciate il tasto sinistro, si apre questa finestra in cui potete andare a modificare il testo. Ad esempio, io gli scrivo, non lo so, qualsiasi cosa. Ciao, mi chiamo Alessandro. Voi potete scegliere di scrivere quello che volete. Vedete che qui in alto potete selezionare il tipo di testo, la calligrafia quindi, no? Come si fa di solito con qualsiasi programma di testo. E lui la modifica. Qua modificate la dimensione dei caratteri, posso portarlo a 24, e qui infine modificate il colore. Lo mettiamo di questo blu. Poi fate salva, ed ecco che subito è spuntato qui il mio testo, dove c'è scritto, ciao, mi chiamo Alessandro, dei colori che volevo io, eccetera, eccetera. Se vogliamo spostarlo, ecco che ci ritorna utile lo strumento seleziona forme. Quindi clicchiamo sullo strumento seleziona forme, e subito vediamo che viene selezionato il nostro testo. Se vado sopra, si crea questa specie di freccetta diversa, no? Se clicco, adesso posso spostare il mio testo, posso anche... No, da qui non lo fa. Posso spostarlo dove mi pare piace, cioè se voglio ridimensionarlo, devo andarlo a modificare di nuovo dall'inizio. Io lo metto qui in basso. E questo è lo strumento di testo. Poi abbiamo lo strumento... Vi faccio vedere i più importanti. Passiamo allo strumento pennello a mano libera, che è questo in basso a sinistra, che potete vedere qui, e questo è praticamente lo strumento più importante, perché appunto, come lo dice già il nome, è un pennello. Che cosa vuol dire un pennello? Allora, dovete fare un attimino attenzione, perché nel momento in cui avete inserito il testo, torniamo un attimo indietro, scusatemi, nel momento in cui avete inserito un testo, notate subito che nella sezione a destra, abbiamo questa sezione livelli, ok? Allora, i livelli, che è una cosa molto importante quando vogliamo andare a ritoccare un'immagine, ogni livello dovete immaginarlo come un poio trasparente che si sovrappone a quello che c'è sotto. Che cosa vuol dire? Allora, guardate qui, se anche voi avete due livelli, cliccate sul livello dove c'è scritto livello vettoriale 1, cliccate su questa immagine che è un occhio, e vedete che nel momento in cui io clicco, quindi se è deselezionato, non lo vedo più. Vedete che si leva lì la scritta. Se invece metto l'occhio attivo, la scritta torna a vedersi. Questo vuol dire che il livello vettoriale 1, quello che si chiama livello vettoriale 1, che poi potete dargli un nome qualsiasi, è messo al di sopra, è come se fosse un poio trasparente, su cui io ho scritto, Ciao, mi chiamo Alessandro, messo sopra il livello 1. Mentre nel livello 1, è sempre un poio trasparente, ma dove abbiamo disegnato l'immagine. Ogni volta che creo un livello, aggiungiamo un poio trasparente, uno sopra l'altro. Quindi, se noi andiamo, guardate qui, cliccando sul più in basso, posso creare un nuovo livello. E spunto ha scritto livello 2. Ok? Se io ho selezionato il livello 2, quindi il livello 2 è l'ultimo foglio trasparente che io ho aggiunto, quindi io in questo momento, appena seleziono il livello 2, sto disegnando sull'ultimo foglio. Quindi, seleziono il pennello e inizio a disegnare. Vedete il pennello, vi faccio vedere solo un esempio. Il pennello, ovviamente, e qui serve a colorare, ci sono varie impostazioni, adesso me le mostro. In questo caso, ho colorato soltanto sul livello 2. Di conseguenza, se io deseleziono il livello 2, vedete che si leva, è come se ho levato il foglio trasparente. In questo modo, posso andare a aggiungere vari livelli nel mio disegno, in modo tale che, se sbaglio a disegnare, a colorare, o a fare quello che sto facendo, sbaglio soltanto su questo livello. In più, se io ad esempio utilizzo la gomma, e ora vi faccio anche vedere come si fa, cancello soltanto quello che c'è nel livello che ho selezionato. Vedete che ho selezionato il livello 2, quindi sto cancellando solo il livello 2. Se seleziono il livello 1, vedete che cancello la foto che si trova nel livello 1, ma non cancello il disegno che avevamo fatto sul livello 2? Torno indietro. Per tornare indietro, potete cliccare o qui in alto a sinistra, annulla l'ultima azione, oppure potete pigiare sulla tastiera CTRLZ, e lui elimina, torna indietro nei passaggi. Questi sono i livelli. Una cosa molto importante dei livelli è che si può selezionare l'opacità. Che cos'è l'opacità? L'opacità, che è un concetto generale, è appunto in generale il livello di trasparenza di un pennello, di un colore che andiamo a fare. Nel senso che con l'opacità decidiamo quanto deve essere trasparente il tratto con cui stiamo andando a colorare. Vi faccio capire. Se io seleziono opacità 100%, allora, aspetta, scusate che seleziono un pennello diverso, vedete che il tratto nero è totalmente... non è trasparente, anzi, è al 100% opaco. Se io vado a modificare e abbassare l'opacità, vedete che diventa sempre più trasparente? Notate bene che l'opacità è riferita al livello. Quindi, se io seleziono il livello vettoriale 1, sul livello vettoriale 1 che cosa c'è? C'è il testo che avevamo inserito all'inizio. È a opacità 100%. Se io voglio rendere il livello vettoriale 1 più trasparente, quindi tutte le scritte le voglio rendere più trasparenti, basta che abbasso il livello di opacità e vedete che diventa trasparente? E questo vale per ogni livello. Ricordatevi questo perché lo andremo a utilizzare per andare a modificare il colore degli occhi. Sarà molto importante per questo motivo. Io questo... se volete eliminare un livello basta selezionarlo, qui trovate il tasto elimina il livello o la maschera e lui ve lo elimina. Ed ecco che se avete fatto degli errori o se volete provare vi basta creare un nuovo livello, lavorare su quello, se poi non vi piace potete eliminarlo o modificarlo. E questi sono i livelli. Tornando al pennello. Il pennello, vi dicevo, è lo strumento più importante che noi abbiamo perché appunto ci permette di disegnare sui vari livelli che noi andiamo a selezionare. esistono vari tipi di pennelli. Come si eliminano i livelli? Allora, ve lo ripeto, i livelli si eliminano selezionando un livello e in basso a destra c'è questo cestino. Tu clicchi sul cestino e lui ti elimina il livello che hai selezionato. Fai attenzione a non eliminare il livello 1 dove abbiamo caricato l'immagine. Ok? Per i pennelli abbiamo vari pennelli perché lo strumento pennello noi possiamo decidere se colorare con una matita. Nella realtà abbiamo la matita, i colori, i colori a spirito, l'acquarello, abbiamo tutta una serie di strumenti, ok? E anche all'interno di questo programma possiamo scegliere vari strumenti. In particolare ne abbiamo tantissimi proprio. Ve ne faccio vedere giusto due ma poi potete esplorarli voi stessi. I pennelli li trovate qui in basso a destra. Vedete? In questa sezione da qui possiamo scegliere. allora abbiamo innanzitutto la gomma. E la gomma che cosa fa? Cancella semplicemente. Ok? Vedete che cancella? CTRL Z CTRL Z annullo e torno indietro. Poi abbiamo questo strumento qui che si chiama Basic 1 cioè lo strumento base che è semplicemente un un per tornare indietro per fare annulla basta fare CTRL Z con CTRL Z si cancella si si annulla l'ultima azione fatta. Vi stavo dicendo questo qui è il pennello base e serve soltanto a colorare ok? Cioè è lo strumento di base appunto. Se vogliamo qualcosa di un po' diverso ad esempio guardiamo questo questo si chiama in inglese Hairbrush Soft che sarebbe pennello aereo leggero è una sorta di bomboletta ah guardate appena seleziono il pennello vi faccio vedere anche questa qui in alto abbiamo la dimensione del pennello guardate che così è piccolino e disegno piccolino se io aumento la dimensione disegno molto più grande vedete vedete la differenza tra il pennello base che è questo e a questo tratto e il pennello Hairbrush che è questo qui e che è una sorta di bomboletta diciamo di nuovo ctrl z torno indietro vi faccio vedere un altro altri effetti carini ad esempio se scendete in basso potete trovare potete trovare tipo questo pennello qui che si chiama texture spray esempio vedete guardate questo che effetto fa da questo effetto diciamo di sporco non lo so che potete utilizzare per fare vari disegni non lo so se volete disegnare una macchina piena di fango magari ci può stare prendere questo pennello e colorare sulla macchina in questo modo se volete cambiare un'altra cosa molto importante oltre alla dimensione anche per il pennello abbiamo l'opacità anche per il pennello abbiamo l'opacità che mentre per i livelli si riferiva è la trasparenza di tutto il livello mentre se io seleziono questa opacità e l'aumento la alzo se la metto al minimo vedete che quello che coloro con il pennello diventa trasparente è molto più trasparente se l'aumento invece diventa molto più meno trasparente ok? quindi l'opacità esiste sia per i livelli qui sia per i pennelli qui ovviamente posso anche decidere di modificare il colore e lo vedete qui in alto a destra trovate il selettore dei colori in cui nel cerchio selezionate nel cerchio esterno al triangolo selezionate il colore che voi volete con il triangolo andate a decidere quanto chiaro e quanto scuro deve essere quindi io metto un po' di rosso ad esempio vi faccio vedere una cosa veloce seleziono io questo tipo di pennello texture star field metto una dimensione un po' più bassa questo qui non va bene questo quest'altro ok diminuisco un po' l'opacità e vedete che se lo faccio bene adesso lo sto facendo un po' male però se lo faccio bene è come se gli stessimo mettendo delle lentigie e quindi ad esempio diminuendo ancora un po' la dimensione attenzione che se mettete delle dimensioni troppo basse c'è il rischio di non vedersi che non si vedano perché se è troppo piccola la dimensione del pennello non crea niente quando cliccate non crea niente vedete che sta avvenendo un effetto con alcune lentigini ad esempio e già qui è un esempio di fotoritocco ok allora io annullo tutte le modifiche che ho fatto perché non mi interessano e ah per zoomare o dezoommare avete il livello di zoom qui in basso a destra vedete così oppure semplicemente con la rotellina del mouse avanti e indietro potete zoomare e dezoommare altri strumenti importanti sono gli strumenti di forme che si trovano sempre nella sezione a sinistra ma da questo lato e semplicemente sono come i pennelli quindi anche sulle forme voi potete selezionare il tipo di tratto che volete quindi in questo caso abbiamo ancora chiamiamole così lentigini però a differenza del pennello classico qui io disegno delle forme delle forme in cui viene applicato quel pennello se io in questo caso ho fatto un rettangolo se voglio fare un cerchio seleziono il cerchio e si fa un cerchio se voglio il tratto normale voglio fare un cerchio con il tratto normale torno a selezionare il pennello normale e vedete che esce un tratto normale anche su questo ovviamente si può decidere la sua opacità che come abbiamo detto prima è quanto deve essere trasparente il tratto del nostro pennello annulliamo le modifiche e andiamo avanti uno strumento un altro strumento molto molto importante è quello della selezione in particolare uno strumento importante e abbiamo allora la selezione che cosa la selezione ci permette di disegnare dei rettangoli li trovate qui vedete dei cerchi delle figure qualsiasi no e a che cosa ci serve selezionarlo vedete ad esempio se io prendo un cerchio faccio un cerchio e seleziono fate finta che sia tutto il suo viso ok che l'abbia fatto bene prendo il pennello guardate che succede adesso sto colorando solo all'interno della mia selezione e questo è molto importante e lo vedremo subito adesso perché ci permette di non andare fuori dai bordi uno che sa colorare deve fare attenzione a non andare fuori dai bordi siccome colorare col mouse è abbastanza difficile questo strumento ci può aiutare moltissimo a non andare fuori dai bordi e vi faccio vedere in che senso allora iniziamo a fare un'applicazione un po' un'applicazione di quello che abbiamo visto fino ad ora e quindi facciamo un po' di fotoritocco e direi di andare a modificare il colore degli occhi di questo viso allora invece di fare la selezione per a cerchio selezioniamo questo strumento che si chiama selezione curva di basier che è semplicemente una selezione in cui vedete io clicco lui fa partire una linea poi riclicco e posso andare a modificare e a creare qualsiasi linea se io ritorno nel punto iniziale mi ha fatto una selezione che è uguale alla forma che io ho disegnato in questo modo posso andare a creare delle selezioni di qualsiasi forma in particolare questa volta io voglio fare una selezione che ha la forma il mio occhio perché io voglio andare a colorare l'occhio senza uscire fuori dai bordi però siccome ho il rischio di sbagliare che cosa faccio se non voglio sbagliare o meglio se ho paura di sbagliare e poi voglio tornare indietro crea un nuovo livello in modo tale che adesso tutto quello che andiamo a fare sarà disegnato soltanto sul nuovo livello che come ho detto all'inizio i livelli sono questi fogli trasparenti che si mettono uno sopra l'altro e servono proprio ad evitare gli errori ma soprattutto a lavorare e a creare un'immagine più complicata quindi crea un nuovo livello vedete qui che spunta scritto livello 3 guardate dove è messo il livello il livello 3 si trova subito dopo il livello 1 cioè sopra il livello 1 ma sotto il livello vettoriale 1 questo vuol dire che immaginando i miei fogli trasparenti io ho il foglio trasparente che si chiama livello 1 dove ho caricato l'immagine del viso poi ho il nuovo livello che ho creato ora e sopra quest'altro foglio ho l'altro livello dove è contenuto il testo quindi noi vogliamo andare a modificare il livello a metà che si chiama livello 3 il fatto che si chiami livello 3 non vuol dire che sia il livello più l'ultimo livello inserito semplicemente è stato il terzo livello che abbiamo creato ma comunque si trova a metà tra il livello 1 e il livello vettoriale 1 ok una volta selezionato il livello 3 andiamo a selezionare la curva di Bayes e siccome abbiamo detto io voglio colorare gli occhi ma voglio fare attenzione a non uscire fuori di conseguenza che cosa faccio mi avvicino con lo zoom negli occhi e inizio a fare questo lavoro vedete io faccio un click si ferma parte una linea e poi riclicco ogni volta che riclicco metto un punto e in questo modo posso andare a creare qualsiasi forma io voglio ok fate attenzione che io voglio colorare non voglio colorare la pupilla ma voglio colorare soltanto la parte fuori dalla pupilla ok quindi io la parte nera non la prendo ma prendo tutta la parte un po' qui zoomata si vede in grigio però dovrebbe essere quella del dell'iride insomma quindi vado a costruire questa selezione ok vedete che ha selezionato la forma apposta adesso che cosa faccio lo voglio colorare vado nello strumento pennello seleziono il pennello base quello più semplice e mi basta fare semplicemente così e vedete che viene colorata soltanto la selezione ok se avete l'opacità al massimo esce una cosa del genere non del rosso magari facciamolo in un altro colore facciamoli azzurrini ok quindi seleziono il colore azzurrino li facciamo un po' più chiari ok ecco qui e vedete già che inizia ad essere rosso ad essere colorato l'occhio però è un colore un po' brutto cioè si vede che è fatto male non sembra non sembra per niente reale si vede che è finto cosa possiamo fare dobbiamo aumentare il livello di trasparenza cioè dobbiamo renderlo un po' più più trasparente come facciamo andiamo a modificare la trasparenza quindi l'opacità di questo livello quindi prendo qui abbasso l'opacità no ah ragazzi ho fatto ho fatto un errore che è quello di non aver creato il livello vedete che io stavo lavorando sul livello 1 così facendo appena io modifico l'opacità viene modificata l'opacità di tutto il livello e questo perché perché non ho creato appunto l'altro di livello no ma io sto lavorando soltanto sul livello 1 e questo adesso non mi permette ho fatto un errore e non mi permette di andare a fare quello che volevo fare allora lo rifaccio così anche voi avete il tempo di seguirmi meglio questo lo cancello ritorniamo indietro creo un nuovo livello seleziono il livello 5 riprendo la curva di baser che avevo usato all'inizio rifaccio velocemente la selezione sull'occhio ovviamente ragazzi più precisi siete più uscirà un'immagine carina io adesso qui vado veloce perché abbiamo i tempi stretti purtroppo però più siete precisi ma come in tutto e del resto più bella sarà il risultato che andiamo ad ottenere quindi chiudiamo questo livello questa selezione ritorniamo qui ok adesso se abbassa l'opacità ecco qui che guardate la differenza vedete che adesso effettivamente rispetto a così con l'opacità così è l'opacità al massimo se volete eliminare queste linee tratteggiate che si muovono basta che tornate prendete uno strumento di allora per Emanuele Borelli il colore del pennello come il colore di qualsiasi cosa si cambia in alto a destra qui selettore dei colori avanzati e basta con il cerchio esterno selezioni il colore con il cerchio interno selezioni se deve essere chiaro o scuro cioè con il triangolo interno scusami ok se volete eliminare stavo dicendo questa linea tratteggiata che si muove per vedere il risultato basta che selezionate uno di questi strumenti cliccate e lui si leva quindi andiamo a vedere l'effetto che si ottiene diminuendo l'opacità ecco qui che guardate appena levò lo zoom vedete che effettivamente adesso si è colorato ed è più azzurro e rispetto ad averla al 100% così si vede che è finto ed è stato ricolloccato così si vede un po' meno già si capisce un po' meno e se più siete bravi e più siete precisi meno si capisce che è stato un ritocco ok facciamo lo stesso lavoro sull'altro occhio quindi strumento di selezione curva bezier andiamo a selezionare di nuovo il nostro occhio facendo attenzione a non prendere la pupilla e a non prendere ora ti faccio vedere come si toglie la curva un attimino che in questo momento sto finendo la selezione ok una volta fatta la selezione ritorno al pennello ricoloro tutto e grazie alla selezione viene colorato soltanto quello che è all'interno della selezione vedete che l'opacità è già stata settata è già messa al 48% ed ecco che gli abbiamo creato gli abbiamo dato il colore azzurro per levare lo strumento bezier basta prendere un qualsiasi strumento di selezione anche lo strumento bezier che non sia di nuovo lo strumento bezier scusate e cliccare in qualsiasi punto ed ecco che si è levata la selezione che avevamo fatto se dezoommate vedete l'effetto che abbiamo ottenuto vi faccio vedere se riusciamo la differenza la differenza rispetto all'immagine iniziale ecco qui l'immagine iniziale era questo hai visto sì sembra proprio reale e più sei preciso più più sembra vero ad esempio puoi vedi che nella realtà vi faccio vedere un altro esempio che avevo fatto vedete qui io qui avevo con lo stesso metodo ho colorato le labbra di rosso ovviamente sono stato poco preciso e qui già si vede un po' di più che è un po' finto però potete andare a migliorarlo perdendoci più tempo e niente qui ho fatto gli occhi verdi ho colorato le labbra di rosso ho aggiunto attraverso vi faccio vedere come si aggiungono le lentiggini e ve l'avevo fatto vedere prima e ho aggiunto anche un po' di gote rosse le guanciotte rosse vi faccio vedere come ho fatto ad aggiungere le guanciotte rosse per aggiungere le guanciotte rosse semplicemente utilizziamo un altro pennello un altro tipo di tratto quindi selezioniamo di nuovo il pennello andiamo in basso a destra dove possiamo selezionare questi i vari tratti che il nostro pennello può avere quindi andiamo a decidere se deve essere una matita un pennello allo spirito eccetera eccetera e selezioniamo il light brush soft vediamo come esce con questo mettiamo un'opacità ricordatevi che state lavorando sempre sul livello 5 infatti provate provate a disattivare il livello 5 vedete che gli occhi tornano tornano ad essere quelli che c'è sotto se leviamo il livello vettoriale 1 si leva anche la foto e il testo scusate ok e questo l'avevamo visto prima abbassando l'opacità allora se sul nuovo livello non vi fa disegnare provate provate a vedete qui sui vari livelli c'è un lucchetto se in teoria quando create un nuovo livello voi già potete disegnare ma se per caso cliccate sul lucchetto lui non vi fa più disegnare su quel livello e vi dirà il livello è bloccato questo serve per evitare di fare errori ma voi tenetelo sbloccato ok quindi vi stavo dicendo selezioniamo il pennello airbrush e ci posizioniamo vicino alla guancia magari dobbiamo fare un po' di prove ogni volta per capire cosa uscirà devo mettere un colore che sia rosso perché lo vogliamo rossa diciamo così ecco vedete più clicco ogni volta che clicco aumenta il colore ok vedete guardate la differenza è come se gli stessi mettendo il fondotinta ecco qui e gli abbiamo aggiunto e gli abbiamo ovviamente è venuto allora è venuto un po' male però ancora una volta se lo fate bene se vi impegnate lo fate preciso tipo questo qui è venuto abbastanza bene per farlo anche da questo lato bisogna essere un po' più precisi e andare a fare a farlo in modo tale che sia uguale sia da un lato che dall'altro per ottenere proprio l'effetto che vogliamo qualcosa del genere ok ovviamente abbiamo aggiunto il fondotinta su su questo livello livello 5 e nel momento in cui andiamo a deselezionarlo vedete che anche il fondotinta si leva ok per le lentigini come vi avevo fatto vedere allora andando a me non piace moltissimo quindi lo leverei lo metto così per le lentigini come vi avevo fatto vedere all'inizio possiamo selezionare questo strumento che si chiama vediamo come si chiama si chiama texture splat lo selezioniamo gli diamo un rosso che ci piace ed ecco vi conviene sempre tenere l'opacità un po' bassa cioè mai al 100% non bassa ma mai al 100% perché quando l'opacità è al 100% si vede che è fatto con il computer invece se abbassate l'opacità si vede molto di meno come è successo con gli occhi vedete appena io ho aumentato l'opacità si vede che è fatto al computer se io l'abbasso già si vede meno e quindi questo vale per qualsiasi cosa e quindi io posso continuare a mettere un po' di lentigini se modifico questa di opacità come avevo detto prima modifico l'opacità soltanto dal pennello mettiamo un po' sul naso ed ecco che vedete appena dezoomo l'effetto sembra reale cioè sembra che abbia davvero le lentigini possiamo aggiungere un po' anche sulla fronte per colorare le labbra come vi avevo fatto vedere in questa immagine fate allo stesso identico modo di come abbiamo fatto con gli occhi selezionate andate sulle labbra create una selezione i capelli create una selezione delle labbra e fate allo stesso modo se i capelli si possono colorare i capelli si possono colorare sì però è già un po' più complicato perché devi inventarti qualcosa per farlo sembrare reale perché essendo che i capelli hanno già vi faccio vedere l'effetto che otteniamo selezioniamo il pennello dovete provare vari pennelli e vari e vari modi perché essendo che i capelli sono molto più come dire complicati a livello di colore e anche a livello di di forme vedete tipo qui se già provo a fare una cosa del genere si esce il rosso ma non esce benissimo no oddio volendo se si è precisi il problema ad esempio sarebbe qui in questi sfondo bianco però si potrebbe pensare di eliminare lo sfondo bianco che c'è fuori o meglio creare un nuovo livello creare un livello in cui facciamo una selezione soltanto dei capelli e lavoriamo solo su quello ok quindi sì si può fare qualsiasi cosa vi immaginate la possiamo andare a realizzare ovviamente esatto potremmo usare la gomma o comunque o comunque andare a fare una selezione con lo strumento di baser oppure sì usare la gomma e nota bene che anche la gomma la gomma si seleziona qui ma anche la gomma ha la sua opacità nel senso guarda vi faccio vedere se io cancello così se io faccio ah seleziono il livello 1 stavo cancellando solo sul livello 5 infatti non funzionava e non capivo perché ma è perché giustamente stavo lavorando sul livello 5 seleziono il livello 1 vedete che si cancella poco che rimane un po' se io diminuisco ancora vedete che cancella poco quindi anche la gomma ha la funzione di opacità e questo può essere molto utile perché ad esempio appunto se io voglio andare a cancellare nelle parti cercare di colorare i capelli andando a cancellare nelle parti dove c'è il bianco quindi io rifaccio questo lavoro e poi voglio andare a cancellare lì seleziono la gomma devo un lavoro un po' minuzioso devo diminuire la dimensione zoomare della gomma zoomare e mettermi lì cercando di essere il più preciso possibile aumento un po' l'opacità e senza fare troppi danni però grazie ai livelli appunto posso evitare di fare degli errori in più vi faccio vedere l'ultimissimo strumento e poi e poi passiamo alle domande l'ultimissimo strumento che volevo farvi vedere che è abbastanza utile sono sempre degli strumenti di selezione ed è strumento di selezione colore simili guardate se io faccio così mi avvicino alle labbra ecco in teoria questo strumento soltanto che a volte non va benissimo proviamo con quest'altro ok questo strumento qui fa una selezione del colore o almeno ci prova nel senso che essendo che è una cosa automatica lui cerca di andare a fare la selezione di tutto quello che ha lo stesso colore vicino al tratto che io ho cliccato ok in questo caso mi ha selezionato tutti i colori rosa diciamo no i colori del viso infatti se io seleziono sul blu vedete che mi prende soltanto le parti blu e questo può tornare e questo può tornare molto 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 comodo quando voglio andare ad eliminare degli sfondi vedete se qui c'è tutto lo sfondo bianco io lo clicco qui ha sbagliato un po' però da questo lato ad esempio non ha sbagliato ha fatto benissimo io lo clicco e adesso basta che faccio cange e io ho eliminato lo sfondo bianco e quindi per quel problema di disegnare invece di utilizzare la gomma potrei pensare di fare un qualcosa del genere per andare ad eliminare lo sfondo e poi colorare solo i capelli ovviamente ci sono altri altri mille strumenti mille parametri che possiamo andare a modificare e potete anche esplorarli per i fatti vostri comunque anche tra tutti i pennelli ci sono un sacco di possibilità vi potete divertire come volete in ogni caso probabilmente ci rivedremo in una prossima pillola che saranno postate se le cercate le postiamo sempre sul sito di Futur Maker questo è quanto ora se avete se avete delle domande vi invito a prenotarvi sulla chat magari scrivete una X che ha delle domande la mandate e poi in ordine in ordine vi vi disattiviamo il microfono fate la vostra domanda vi do la risposta e siamo qui grazie a voi e con un cuore e la vostra domanda e la vostra domanda che sia la vostra domanda Grazie a tutti